ciao a tutti ragazzi quest'oggi siamo in darsena e andiamo a percorrere i navigli con simone lunghi l'angelo dei navigli ma quest'oggi ci sono più angeli guardate tutti i nostri bambini un nuovo percorso per i nostri bambini che non sono mai venuti in questo naviglio 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1